La vostra scienza già riconosce che il tempo è un concetto immaginario. John Smallman e Jesus 10 febbraio 2013. Il tempo è un ostacolo alla vostra capacità di comprendere i regni spirituali, perché è praticamente impossibile per voi non renderne una parte di qualsiasi concetto o idea che sviluppate. È come se poteste andare direttamente dal punto A al punto B, ma invece scegliete di passare per tutte le altre lettere dell'alfabeto, forse molte più volte di una sola. Da A a B è istantaneo, l'altro percorso richiede tempo e può sembrare infinito, ed è abbastanza inutile, e questo è difficile per voi comprenderlo, perché misurate lo spazio, la distanza attraverso il cosmo, con il passare del tempo, anni e luce, il che porta alla logica conclusione, che non potete davvero aspettarvi, neanche con la più evoluta tecnologia, di andare oltre il sistema solare locale. Avete fondamentalmente convinto voi stessi fino a credere che siete limitati, quando invece non lo siete veramente. È in gran parte una questione di percezione o di credenza. Cambiate le vostre credenze o liberatele del tutto, e le possibilità si moltiplicheranno in modo esponenziale. Molta della vostra più recente tecnologia di comunicazione è stata sviluppato da giovani, che si rifiutavano di accettare limiti a ciò che si crede sia possibile, e il loro numero sta crescendo, quindi aspettatevi ulteriori grandi progressi in tutte le vostre tecnologie. La vostra scienza già riconosce che il tempo è un concetto immaginario utile, ma molto limitante. Tuttavia, nella vostra vita quotidiana lo utilizzate costantemente per la pianificazione di ogni tipo, a cominciare la vostra giornata, riunioni, servizi di trasporto, per cui la gestione del tempo è un'abilità apparentemente essenziale, che tutti hanno bisogno di imparare ed utilizzare in modo efficace, se si vuole riuscire nella vita. Ma la vita è eterna e, per definizione, non può fallire. Il suo successo è garantito divinamente. In epoche precedenti, prima di misurare il tempo in modo così accurato, le riunioni si verificavano quando le incontri persone si radunavano spontaneamente in un luogo d'incontro. Ora, con tutti, che corrono all'impazzata, questo non avrebbe funzionato, e così siete diventati schiavi di un immaginario, misurabile concetto, che può essere utile, ma che per lo più vi causa enormi quantità di stress, dato che correte per rispettare le scadenze, e vi sforzate di trovare del tempo tra queste per i rapporti veramente significativi in cui siete coinvolti. Quelli tra voi che sono riusciti a stabilire consapevolmente un rapporto più rilassato con l'orologio sono molto più felici, e quindi più in grado di godere i momenti in cui la vita si manifesta. Non usare una rosa, guardare un tramonto, godere delle risate dei bambini. Il tempo è un'invenzione, che avete costruito voi, e come usarlo o quando usarlo si tratta di una scelta, che fatte in ogni momento, anche se probabilmente non siete coscienti di ciò. Quelli di voi che credono di non avere abbastanza tempo per fare quello che vogliono, o ritengono di dover fare, possono cambiare questa convinzione. Fare questo è molto anti-stress. Quelli di voi che credono di non poterlo fare, perché il vostro lavoro richiede questa credenza, possono trovare un lavoro diverso, oppure se vi piace il vostro lavoro, allora cambiate la vostra convinzione e osservate cosa succede. Probabilmente scoprirete che la carenza di tempo, che era una tale preoccupazione, si dissolve lentamente, nei regni spirituali, dove vivete la vostra esistenza eterna, il tempo non esiste e non è necessario. Qualsiasi cosa accade non appena la si desidera o pensa immediatamente. Ecco come funziona la realtà, ed è tempo per l'umanità di svegliarsi e riprendere il suo ruolo nelle iniziative creative in corso, che la realtà abbraccia. Troverete che è infinitamente più soddisfacente che affrontare lo stress e la pressione della vita schiavi tempo nell'illusione. Niente di così complesso, limitante, ed esigente che potrebbe essere qualsiasi cosa, ma illusoria, siete stati creati come esseri immensamente potenti e illuminati direttamente dal divino campo dell'amore, in cui tutto ciò che esiste è? Avete scelto di sperimentare una realtà illusoria che, mentre gli eroni passavano, ha portato sempre più dolore e sofferenza. È tempo di lasciare che si disintegri, si sbricioli, e svanisca in modo, che possiate ancora una volta dimorare nel totale amore e nella consapevolezza, che questo è il vostro naturale stato d'essere, la separazione, che avete apparentemente sperimentato e sopportato, all'interno della realtà illusoria, che avete costruito per giocarci dentro, non è il vostro dominio. Se davvero vi prendete del tempo per osservare l'illusione vedrete che è divisa in molte parti restrittive ed esclusive, che competono tra loro per le necessità della vita. Nella realtà tutto il necessario per la vita è sempre disponibile in abbondanza e senza stress o lotta. È il vostro dominio, la vostra casa, l'ambiente che è sempre e completamente consapevole di voi e che vi risponde con amore, che vi incoraggia ad essere voi stessi, come voi stessi fate. Questo è il modo in cui siete armoniosamente in cooperazione presenti l'uno per l'altro nella canzone o sinfonia in corso della creazione, che è una gioia costante di per sé, il vostro amorevole fratello, Gesù. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.